Il popolo d'amonista di questa ventura, Ivano Ponsanti! Questo apparente non tener fede alla mia decisione di otto anni fa di staccarmi completamente è derivato soltanto dal fatto che questo invito veniva da Mina. Il desiderio di Mina, la richiesta di Mina è stata dal primo istante quella di cantare insieme nel disco e questa era la grande sorpresa. Ma guarda tutti quelli laggiù, come ballano e si baciano, con che sguardi si ingannano, per un'occhiata così anche tu mai desiderata. E allora sono tu. È un disco che ha come argomento portante il presente. È un disco che parla del qui e ora. Poi sono tornato a casa e ho raccontato la cosa a mia moglie. Ho detto, sai, Mina, penso ancora di fare questa cosa. Io sono veramente combattuto in dubbio. Lei mi ha guardato negli occhi senza parlare e mi ha detto, se dici di no, Mina, chiedo il divorzio. Brava!